Il 2 giugno 2014 la conduttrice Showgirl Elena Santarelli convolava a notte con l'Oggi Opinionista TV e Citi nella Nazionale Italiana di Calcio Under 19 Bernard. Bellissimi e famosi si sono sposati dopo essere diventati genitori di Giacomo. Da allora sono trascorsi dieci anni, un traguardo che ha portato la coppia a festeggiare le nozze di alluminio, una festa tra parenti ed amici dove moglie e marito hanno ribadito il sentimento. Da allora sono. Nei video condivisi sui social si vede una coppia che dopo dieci anni si ama come il primo giorno. Grazie per avermi accolta nella tua vita e grazie per sorreggermi sempre. Ti amo, dichiara lei che per l'occasione indossa un sinuoso abito. Dopo due anni di terapie, Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno potuto tirare un respiro di sollievo, ma in questo periodo hanno anche voluto metterci del loro, aiutando la Ricci. Dopo due anni di terapie, Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno potuto tirare un respiro di sollievo, ma in questo periodo hanno anche voluto metterci del loro, aiutando la Ricci. Un amore che ha vissuto momenti di grandi difficoltà, legati alla malattia del figlio Giacomo, un tumore cerebrale diagnosticato quando aveva solo otto anni e la sorellina Greta ne ha avuto.